Allora, tutti hanno votato? Sì, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 118, contrari 292, la Camera spinge. Avverto che il gruppo sinistra italiana, sinistra ecologia libertà, ha esaurito anche gli ulteriori tempi aggiuntivi concessi dalla Presidenza. Come già fatto in precedenti analoge circostanze, la Presidenza consentirà ai deputati di tale gruppo lo svolgimento di brevi interventi alla durata di un minuto da imputare ai tempi previsti del contingentamento per gli interventi a titolo personale. Allora, l'articolo 7, i pareri. Relatore Richetti, prego. Grazie, Presidente. Se mi consente un'espressione di sintesi, gli emendamenti all'articolo 7 sono tutti invito al ritiro, parere contrario, e anche gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7. Grazie. D'accordo, grazie. Allora, Relatore Toninelli, prego. Allora, io parto con gli identici. 7.1, 7.3, parere favorevole. 7.4, parere contrario. 7.6, parere favorevole. 7.5, parere contrario. 7.50, mi rimetto all'aula. 7.7, mi rimetto all'aula. 7.9, favorevole. 7.10, favorevole. 7.51, mi rimetto all'aula. 7.52, mi rimetto all'aula. Mi pare di aver finito. Sì, aspetti, abbiamo gli aggiuntivi, però. Chiedo scusa. 7.04, contrario. 7.053, contrario. 7.56, 7.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 9, 11, 13, 13, 11, 12, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 16, 18, 17, 17, 19, 17, 18.